Giovedì alle ore 21 su TFN ci sarà un nuovo appuntamento con Antologia Reporter, dal titolo Un'altra storia. L'intervista a Rita Borsellino per non dimenticare l'impegno e il coraggio del fratello Paolo e di Giovanni Falcone nella lotta contro la mafia e l'illegalità. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. Un'altra storia, un progetto di cambiamento, un'iniziativa politica e parlamentare. Alla guida Rita Borsellino, sorella del magistrato ucciso dalla mafia nel 1992. Abbiamo incontrato Rita Borsellino alla Biblioteca Scarabelli, prima di un convegno con i Misseni. Un'occasione importante per parlare di passato, presente e futuro, nel segno di Paolo Borsellino, un eroe in prima linea per l'affermazione della legalità.